Bentornati a una mia video Una nuova puntata di Verdi TV Oggi siamo nuovamente a Genova Presso l'antico Palazzo Ducale Per il convegno promosso dalla Federazione dei Verdi Dal titolo verso una finanziaria verde Facciamo i conti con il pianeta Intervengono la co-presidente del partito Grazia Francescato Il consigliere regionale Fabio Roggiolani E il sottosegretario all'economia Paolo Cento Oltre al senatore Natale Ripamonti Come di consueto a tutti voi una buona visione Grazie 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 prima di tutto ringrazia Ringrazia i Verdi, Liguri e Genovesi Non solo per il lavoro che hanno fatto Ma anche per la scelta del luogo Io credo molto nella forza dei luoghi Penso che la scelta di tenere un congresso In un posto piuttosto che un altro Non sia assolutamente neutra Anche dal punto di vista energetico E poter avere questo Palazzo Ducale È una scelta della politica della bellezza Non so quanti di voi abbiano letto Quel libro secondo me fondamentale di James Hillman Che si chiama appunto Politica della bellezza Dove lui dice che ogni atto, ogni azione Tesa a preservare la bellezza che ahimè è in via di estinzione È un atto squisitamente politico E quindi ringrazio i Verdi Genovesi anche per questo Ringrazio poi tutti quelli che hanno lavorato per questo convegno Che riporta in primo piano una parola d'ordine dei Verdi Una sorta di leitmotiv Perché noi diciamo da decenni Che bisogna fare questo matrimonio tra economia ed ecologia Tra l'altro noterete che economia ed ecologia Cominciano non a caso con lo stesso prefisso eco Dal greco oikos che vuol dire casa Naturalmente questa è stata un'eresia a lungo Lo dicevamo soltanto noi E trovavamo pochissimo ascolto nel mondo circostante Ricordo che quando ero presidente del WWF Se lo ricorderà Stefano Lenzi Facciamo una bellissima campagna Nel 92 se non vado errata Che si chiamava Taking Nature into Account L'abbiamo presentata al Parlamento Europeo Cercavamo di far capire quanto fosse importante appunto Unire la dimensione economica, sociale e ambientale Ma devo dire che forse eravamo dei forerunners Eravamo veramente dei precursori troppo E la cosa cadde un po' nel silenzio e nel vuoto E da tutte le parti in questi anni È venuto più che altro un omaggio al mantra dello sviluppo sostenibile Cioè sviluppo sostenibile è una parola che a noi ecologisti fa venire i capelli ritti in testa Perché è una contraddizione in termini Noi abbiamo sempre parlato di futuro sostenibile E abbiamo sempre detto che non vi può essere crescita infinita Quindi sviluppo continuo ad libitum Sul pianeta che ha risorse finite Una constatazione assolutamente alla catalano La palissiana Che però anche questa non è stata raccolta Ma cosa è successo ultimamente? Qual è stato il punto di svolta? Come mai questa nostra eresia è diventata adesso ortodossia? Abbiamo sentito ieri Mussi Abbiamo sentito tutti gli ospiti del nostro parterre politico Riconfermare questa nostra scelta Credo che i fatti siano stati due fondamentalmente Intanto è scattata l'ora X del cambiamento climatico Il cambiamento climatico ci è esploso in faccia Tutti, anche più disattenti Si sono resi conto, quest'inverno Con la neve desaparecida Ghiacci che si scioglievano Le primule al 5 di gennaio Ho trovato sulla Maiella Pensate le primule al 5 di gennaio Tutti si sono resi conto che Il cambiamento climatico non solo c'è già addosso Ma rappresenta una delle grandi sfide di questo inizio millennio Come diceva ieri Bonelli Presentando il patto per il clima L'altro elemento che sicuramente ha costituito un turning point Un punto di svolta è stato il famoso rapporto stern Che lo dicano gli ecologisti Che bisogna mettere insieme economia ed ecologia Non fa notizia Ma se lo dice un grande economista ex banca mondiale Improvvisamente Ecco che tutto il mondo dell'economia ascolta I mercati ascoltano E c'è stata una reazione davvero planetaria Sia a livello di business Di mondo dell'imprenditoria Penso che tutti voi abbiate visto Gli articoli a raffica che sono usciti sull'economy Sullo mondo Ultimamente è uscita una storia proprio su Newsweek Abbastanza interessante Perché la copertina era un termometro Da una parte c'erano i gradi che salivano Ma dall'altra c'erano anche i dollari che salivano Come a dire Il cambiamento climatico non è soltanto cattive notizie Ma significa anche nuovi mercati che si aprono Nuove opportunità economiche La possibilità di fare una riconversione economica Per cui si può anche guadagnare Perché no? Quindi anche conveniente Il mondo del business l'ha capito prima Perché in genere va più veloce Naturalmente c'è anche un sacco di greenwashing Bisogna stare attentissimi Perché poi tutti si presentano come verdi ecologisti adesso Il mondo della politica ha seguito Con un affanno e con fatica Ricordo che quando ero presidente dei verdi In fondo neanche tanto tempo fa In 99-2000 Quando decidemmo di forzare Di fare in modo che nella finanziaria Di allora entrassero un po' di soldi Per le rinnovabili e le efficienze energetiche Io venivo guardata come una un po' così Tranne il presidente Amato Che essendo un economista Capito in anteprima Che quella era una strada da percorrere Poi è arrivato Berlusconi E ha spazzato via tutto e fine Adesso a livello politico mondiale La reazione è stata invece positiva Quindi da Blair a Chirac Da Ségolène Royale Persino allo stesso Bush Tutti sono diventati paladini dell'ambiente Il 14 di febbraio Sono stata con i parlamentari verdi I parlamentari verdi e i parlamentari dei G8 Quindi di tutti i paesi del G8 E i paesi emergenti Cinque paesi emergenti Tra cui in decina Al Senato americano E con nostra grande sorpresa E con lieta sorpresa Abbiamo visto che Tutti i senatori democratici E repubblicani che sfilavano Quindi bipartisan Finalmente accettavano il fatto Che c'era il global warning E dicevano con chiarezza I tempi del denial Del diniego sono finiti Adesso gli Stati Uniti Devono fare un salto di qualità E devono prendere la leadership Questo come sapete Diciamo un po' Una mania degli americani Benvengano Siamo ben felici Per il momento la leadership L'ha presa l'Europa Devo dire che l'Europa Ha avuto un ruolo veramente fondamentale Sia nel far firmare Il protocollo di Kyoto Alla Russia Voi sapete che quello Era un passo politico Di assoluto rilievo Sia poi nel prendere la leadership Effettivamente Almeno a livello di proposte Di impegni Tutti ricorderete Parliamo qui A una platea di addette ai lavori Quindi non mi addentro Nei dettagli Ma ricorderete tutti I famosi treventi Gli obiettivi che sono stati stabiliti Dall'Unione Europea E che tutti noi dobbiamo perseguire La Merkel si è posta in prima linea Quindi penso Noi abbiamo molta fiducia Nella sua conduzione Siamo convinti che l'Europa Deba mantenere questo ruolo di leadership Trascinandosi però Gli altri paesi emergenti Perché guardate La Cina ha già superato Gli Stati Uniti Nella produzione Nell'emissione di CO2 Avrebbe dovuto farlo nel 2010 Invece anticipato Quindi loro Io ho incontrato anche molti Dei loro parlamentari Loro purtroppo Hanno soprattutto carbone E il carbone È a bassissimo prezzo Quindi sarebbero contenti Di avere nuove tecnologie innovative Per poter sviluppare Rinnovabile efficienza energetica Però fino a quando noi Non faremmo in modo Di aiutarli A tagliare l'emissione di CO2 È evidente che Sarà molto difficile Che questa parte emergente del mondo Possa farlo Per quello che riguarda l'Italia Si apre una nuova sfida Per l'ambientalismo Noi ambientalisti Siamo chiamati A capire E a leggere i mercati A leggere Le nuove regole Dell'economia E badate bene Che i cambiamenti Sono velocissimi Io dico sempre Che all'alba del terzo millennio Il fattore dominante Il fattore t Il fattore tempo L'accelerazione degli eventi Tutto cambia così velocemente E uno non gliela fa A stare dietro Bene Dentro il mondo della finanza Come diceva ieri Padre Zanotelli Tutto sta cambiando velocemente E ogni ecologista Che si rispetti Deve per esempio Cominciare a capire Il ruolo Dei private equity Degli hedge fund Che sono quelli Che adesso dominano l'economia Che sono i padroni senza volto E non è un caso Se la Merkel Ha convocato Proprio per lunedì Per questo lunedì 7 Tutti i sindacalisti D'Europa Per discutere di questo Perché nel momento In cui il padrone Non ha più volto Non è più riconoscibile Tu non puoi più pretendere Che osservi delle regole Ambientali e sociali Perché non sai a chi chiedere Questo è solo un esempio Di come cambia velocemente Il mondo della finanza Di come noi siamo chiamati A rispondere a queste sfide Per quello che riguarda i verdi Avete sentito Il discorso del nostro Presidente e Ministro Sul patto per il clima Noi abbiamo lanciato Questa grande scommessa E siamo sicuri Che la società civile Risponderà E nel frattempo Oggi invece Ci siamo concentrati Sullo strumento Che è la finanziaria Che è uno strumento Con cui possiamo provare Non proprio a fare Il matrimonio Tra economia ed ecologia Ma comunque a fare Un bel passo avanti Per integrare Le dimensioni economiche Sociali e ambientali È un work in progress Vorrei mettere L'accento su questo Inizia oggi I workshop Che si incontreranno Nel pomeriggio Ed entreranno nel merito E si daranno un metodo Di lavoro Poi continueranno a incontrarsi Perché fare una finanziaria verde Lo so bene Natale di Pamonti Che con la regala De Petris E con i nostri parlamentari verdi Poi lotta giorno per giorno Al senato E in Parlamento Fare una finanziaria verde Fare un embrione Davvero di finanziaria verde È un lavoro Inmane Enorme E quindi noi abbiamo pensato Che si poteva cominciare Mettendo insieme Tre tribù Che raramente dialogano Tra loro Quindi i parlamentari Che fanno la finanziaria Gli economisti Che poi materialmente La scrivono Che ci ragionano E gli imprenditori Innovativi Dei vari settori Che sono quelli A cui compete Il compito Di aprire i nuovi mercati Di far decollare I nuovi mercati Questa volta Saranno soprattutto Gli imprenditori Delle rinnovabili E dell'efficienza energetica Poi parleremo Dialogheremo Hanno Donati Già pronti a farlo Sapete che è la nostra Più grande esperta Di mobilità sostenibile Con gli imprenditori Della mobilità Poi sarà la volta Delle agroenergie Quindi noi pensiamo Veramente a un itinerario Che si snoderà Attraverso una serie Di tappe Anche fisicamente Sceglieremo diversi Luoghi d'Italia Dove riportare Questo form Finisco dicendo Che penso Che sia ormai Chiara tutto All'inizio Del terzo millennio Che è in gioco La nostra sopravvivenza Quella nostra Dei nostri figli Dei nostri nipoti Su questo pianeta E che tutti quanti Dobbiamo capire Che l'affare del secolo Il business Del terzo millennio Invita la fabbrica Della vita Cioè questa rete Meravigliosa E fragilissima Di ecosistemi Che è il pianeta Terra E che ci garantisce La sopravvivenza E ce la garantirà Nel futuro Se noi sapremo Tornare in armonia Con madre Terra Grazie 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 Già ampiamente Indicato Le ragioni Di questo nostro incontro Io cercherò Un pochettino Di lavorare Su alcune di quelle Che sono le contraddizioni Che abbiamo di fronte E anche le prospettive Da affrontare Mi sono fatto Una traccia scritta Cosa per me Molto imbarazzante Non sono abituato Quindi non la leggerò Cercherò però Di seguirla Perché l'argomento Si è andato costruendo In questi giorni E anche con tanti Nuovi interlocutori Per cui È evidente Che Come dire Stiamo imparando Siamo a scuola Non siamo Come dire A cacare senno E basta Come dicono In Toscano Cacare senno È un'azione Scusate la volgarità Ma per me Se non inizio Dalla parte Come dire Da bambino Non riesco A entrare in sintonia Con chi mi ascolta Io credo Che vent'anni fa Noi abbiamo rappresentato Proprio qui In Liguria Da finale Ligure Una minaccia reale Allo sviluppo economico Di questo paese Ci hanno vissuto così Cioè Noi eravamo Il problema E se intendiamo Lo sviluppo Come cifre assolute Come conteggio Semplicemente Di dati In cifre Forse lo siamo Ancora oggi In questi termini Perché vent'anni fa Abbiamo cominciato A vedere Come l'aumento Del prodotto interno Lordo Nei paesi occidentali Non si sia poi Più accompagnato Al miglioramento Delle condizioni Di vita Della popolazione E neppure All'incremento Dei posti di lavoro Abbiamo cominciato Già allora A capire Quello che Stern Va dicendo oggi E con il crescere Del prezzo del petrolio Si è accresciuto Il divario Tra paesi ricchi E paesi poveri Ci sono studiosi Che hanno ampiamente Dimostrato Io Queste cose Le ho imparate Dal mio amico Professor Maracchi Da cui vado spesso A scuola Copiando Un po' Le indicazioni Cioè Noi vediamo Come il grafico Di aumento Del prezzo Del petrolio Corrisponda Anche con Il calo Con l'aumento Anche del divario Tra paesi Ricchi e paesi Poveri È proprio un grafico Che torna Perfettamente E lo stesso È avvenuto Anche L'aumento Del divario Nella ricchezza All'interno Dei paesi occidentali Cioè A ogni aumento Del prezzo Del petrolio Corrisponde A un divario Maggiore Tra chi è povero E chi è ricco All'interno Dei paesi occidentali Cioè Lo sviluppo E l'aumento Dell'economia Del petrolio Prima ha conquistato Il mondo Poi dopo che L'ha conquistato Cominciando Ad aumentare Di prezzo Ha impoverito L'intero pianeta Questo è il dato Escluso ovviamente Chi deteneva Le risorse petrolifiche E questa è Diciamo L'ultima In ordine Di tempo Delle dimostrazioni Che ormai Abbiamo Chiarissime Come L'approccio Liberista E l'approccio Socialdemocratico In economia Dopo che Avevamo già avuto Ampiamente La dimostrazione Del fallimento Di quello Comunista Sono appunto Falliti Hanno fallito Proprio Nella Nella questione Per loro Basilare La risposta Economica Come tentativo Di riequilibrio All'interno Della nostra società Ormai È chiaro Che negli ultimi 40 anni Ogni anno Corrisponde Ad alcuni milioni Di esseri umani In più Che entrano Nella morsa Del rischio Della morte Per fame E che muoiono Effettivamente Di fame Questo è il più Grande dei fallimenti È un olocausto Annuale Che noi Facciamo finta Di non vedere Oppure noi vediamo Ma di cui Non sappiamo Darci una vera Risposta Cos'è che ha scatenato Questo incremento È stata la Limitatezza Delle risorse Quest'incremento Di valore Prima ancora Di quello Che poi è avvenuto Successivamente Cioè con La vicenda L'accelerazione Dal 2001 La vicenda Delle torri gemelle L'attacco Di alcaida Eccetera Da allora Dal 1970 Abbiamo avuto Degli incrementi Terrificanti Tanto per capirsi L'energia costa Circa il 400 500% In più Alcune materie prime Arrivano al 2000% In più Cioè siamo Di fronte al fatto Che sostanzialmente La massa monetaria Che si spostava Nel 70 Verso le energie Non rinnovabili Verso il ciclo Del petrolio Il ciclo Dell'acciaio Il ciclo Della chimica Va bene E tutta la parte Energivora Tutta la parte Energetica La quantità Di risorse finanziarie Dedicate al Semplice consumo Della parte Energetica È aumentata E delle Appunto Delle materie prime È aumentata In maniera spaventosa E questo Ha significato L'impoverimento Di tutto il resto Del ciclo economico Il ciclo Dell'acciaio È quel ciclo Che fa sì Che si lamina In Islanda Si sposta Per incapsulare In Brasile Si termina Il prodotto Dall'altra parte Il prodotto Gira 3-4 volte Questo è il ciclo Dell'acciaio E quindi Siamo Dentro Una dimensione Per cui Tutto è Costituito Per In maniera Tale Che questo Dispendio Continuo Di energia Faccia Sì Sostanzialmente Che tutto Il sistema Economico Lavora Al dispendio Di energia Il tutto È avvenuto Ovviamente Perché si è Fatto Dumping Perché fino Al 70 Il petrolio È stato Sostanzialmente Regalato Venduto Sotto Costo Ancora Oggi Se guardiamo Al prezzo Assoluto Se da una bottiglia D'acqua Minerale A una bottiglia Fosse riempita Di petrolio Costa meno La bottiglia Di petrolio Di quella Di acqua Minerale Quindi Siamo di fronte Alle ragioni Vere Per cui C'è stato Lo sviluppo Delle guerre Ultime Quella Irachena E le altre Compreso Tutte le varie Invasioni A cui abbiamo Assistito Non c'è altra ragione Che il controllo Di questa immensa Quantità Di energia Finanziaria Che è la base Su cui abbiamo Ammazzato L'argentina Su cui Continuamente Cerchiamo Si cerca Di assassinare Ogni altra Economia E allora Che cosa è avvenuto A livello planetario È avvenuto Alcune cose Innanzitutto È avvenuto Una saldatura Importante Questa è avvenuta A Portoallegre Dove gli imprenditori Sostenibili Si sono costituiti Come organizzazione Portoallegre Come dire Il luogo celebrato Dei No Global Fu lì Il primo momento In cui gli imprenditori Del cosiddetto Capitalismo naturale O Diciamo Gli imprenditori Sostenibili Come li vogliamo chiamare Si sono cominciati Ad organizzare Si sono organizzati Anche in maniera ufficiale Sono venuti alla luce Cioè questa contraddizione Quasi in termini Si è andata superando E si sono andati Eh Hanno cominciato Ad organizzarsi Creando l'alleanza Con la nuova scienza La nuova scienza Non energivora La nuova scienza Che diciamo È scomparsa Dal 1920 In poi Il 30 Diciamo Dallo sviluppo Del petrolio Quella messa da parte La scienza Che non Non esisteva più Come capacità competitiva E quindi scompariva Tutta l'infinità Dei brevetti Quando la scienza Cercava In tutte le direzioni E non indotta Semplicemente A cercare Verso il consumo Energetico Perché questo È quello che è avvenuto E allora c'è stata Una nuova saldatura Tra scienziati Non solo tra i climatologi E quelli che cominciavano Insieme a noi A prevedere Quello che stava avvenendo La nuova scienza Dell'ecologia L'approccio Diciamo Della nanoscienza Quella scienza Che osserva il mondo Prima di pensare Come lo violenterà Prima impara Cerca di comprendere Cerca di avere L'altro approccio E questa scienza Ha cominciato a saldarsi Con una parte Del mondo economico Con quegli imprenditori Che non ci stanno A farsi cacciare via Dal ciclo economico Perché questo È quello che è avvenuto Lo sviluppo Della povertà Ha fatto sì Che anche una fascia Importantissima Di imprenditoria Diventasse Un'imprenditoria A estremo rischio In cui la preoccupazione Del vivere La faceva da padrona Su qualsiasi Altra prospettiva Di lavoro E di vita E questa alleanza Ha prodotto Molte delle cose Che cominciamo a vedere In questa innovazione Ad impatto zero In questa fiera Cioè nasce Una categoria Di imprenditori Che pensa bene Che forse È tempo Di riscrivere Un nuovo patto Con i lavoratori Con i sindacati Con le proprie associazioni Perché ha compreso In sostanza Di essere Partecipe Di un altro ciclo Che non è il ciclo Che comanda Io lo chiamerei Il ciclo del carbonio Tanto per definirlo La fibra di carbonio Non della CO2 Sto parlando Della fibra di carbonio Come esempio Ma fibra di carbonio È duttile È estremamente lavorabile Lavorabile Un pezzo per volta Non ha bisogno Delle presse È diciamo Strutturalmente Una economia Che può ritrovare Il proprio centro Nelle economie locali Certo Un'economia Che non è che Non si confonda Con le questioni mondiali Internazionali È chiaro Che deve avere Anche la capacità Di competere Ma è altrettanto Chiaro Che oggi Un'economia Che possa dirsi In linea Con l'ecologia E l'ecologia Diventa economia Proprio costruendo Un'economia In cui Il nocciolo Di tutto quello Che è possibile fare Si mantiene Si sviluppa Localmente La cosiddetta Figliera corta In agricoltura Oggi è L'elemento Fondamentale Anche in termini Industriali Perché Voi capirete Qual è la differenza Se noi riusciamo A riorganizzare In termini Di produzione Di merci Togliendo Tutto quello Che è il costo Energetico Di spostamento Continuo Di queste merci Di continua Movimentazione Noi abbiamo Una quantità Di massa finanziaria Su cui operare E quindi Una quantità Anche di ricchezza Effettiva Su cui operare Che ci dà la forza Per tornare A essere competitivi Anche a livello locale E l'altra enorme Massa finanziaria Su cui operare È quella Dello spostamento Dalle fonti fossili Alle fonti rinnovabili Io mi auguro Che gli economisti Di stamattina Ci comincino a chiarire Anche in termini Di quanto valgono Un prodotto interno lordo In termini di cifre Spostare un miliardo di euro Dico un miliardo come cifra Dal Dal darli Oltre che all'estero Alle fonti non rinnovabili Alle fonti fossili A invece A spostarli dentro L'energia rinnovabile Questo cambia la ricchezza La ricchezza reale Oppure pensate Che la ricchezza reale Sia quella cosa Fatta di prodotti Che noi utilizziamo E la cui Maggioranza di valore Poi viene messa In discarica Oppure Volatilizzata Dagli inceneritori E quella ricchezza reale La ricchezza reale Quella è un'altra cosa È una roba Che abbiamo spostato Sporcato Che ha sporcato il pianeta E poi finisce in discarica Ma di cui abbiamo toccato Solo una parte Non è quella La ricchezza reale Ma questo ormai Lo pensano Gli industriali Io ho letto Sul sole 24 ore Il Tra le molte cose Molto importanti Che leggo Ho letto anche un articolo Che non l'ho letto Neanche nei congressi Dei venti L'articolo sul re Del butan Non so manco Dove sia Però C'è Il butan Esistora Più o meno Un'idea c'era Che misura Dal 72 Anche Il valore Di felicità reale La felicità netta Di quel paese Ma lo scrive Il giornale Della Confindustria Evidentemente Si pone ormai Un altro tipo Di approccio Perché noi Ormai sappiamo Con molta chiarezza Che possiamo fare Ricchezza Vendendo passi Non scarpe E è questa La svolta Su cui noi Dobbiamo Come dire Sapersi collocare Si può fare Ricchezza Ma si può fare Anche un'altra cosa Si può fare Tanto lavoro E si può fare Lavoro sicuro Stabile Si può fare Lavoro in cui Finalmente I lavoratori Diventano parte Della sfida economica E non semplicemente Oggetti Della sfida economica Come uno Dei costi Da valutare All'interno di questo Perché quando D'Ercole Le nostre incontri Mi porta il documento Che i sindacati Hanno sottoscritto Lo scorso anno Di cui nessuno di noi Forse conosce L'immenso valore In cui i lavoratori Di questo paese Dicono Non solo voglio sapere Se produco armi No? Se ammazzo gli altri Voglio sapere Se la mia produzione Ammazza questo pianeta Questo hanno scritto I sindacati Lo scorso anno Che è un documento Di un valore storico Straordinario E si fa il paro Con quello Che io ho visto Svilupparsi Ultimamente All'interno Delle associazioni Degli artigiani Scusate se parlo Degli artigiani Prima degli industriali Forse sarà tempo Eh? Della Confindustria Ma non per Una questione Di mancanza di rispetto Con Confindustria Tutt'altro Ma perché Le associazioni Che raggruppano Milioni di imprenditori Che sono al centro Davvero Della ricchezza reale Di questo paese In questo paese Non contano niente Sono solo Organizzazioni Che vengono utilizzate Soltanto per Elementi di potere Ma come dire Rubricati dal livello Regionale e locale Quasi che quando si parla A livello nazionale Non contino O comunque Non faccia audience Ebbene per noi Quello è l'audience Quello è il rapporto vero Quella è la svolta Perché sono queste Associazioni davvero Che in questi anni Hanno difeso L'occupazione Di questo paese Sono queste Le associazioni Che fanno ancora Ricchezza Sono questi Quelli che raggruppano Ovviamente Gli imprenditori Questa fascia Di imprenditoria Che paga Tassi Paga le tasse Anche sull'insostenibilità Che noi abbiamo costruito Perché quando Quando uno scarica Nell'ambiente I problemi È chiaro Che alla fine Tutto questo Va nella leva Fiscale E tutto questo Significa tasse Sui cittadini E sugli imprenditori Come è altrettanto Chiaro Che sono le uniche Organizzazioni Che sono in condizioni Oggi Di fare con noi Un patto chiaro In questo paese Occorre allearsi Contro i due Dittatori energetici Eni Ed Enel Senza questa Alleanza Non riusciamo Da una fase Economica Che non Non riusciamo Ad essere Competitivi A livello Internazionale Noi abbiamo Il gioco Di avere In questo paese Alle imprese Il 50% In più Del costo Del metano Che le imprese Il metano Gli costa Il 50% In più Che nel resto D'Europa E il metano Arriva con i tubi Non c'è altra scusa I tubi Hanno tutti i tubi Non ho capito Perché noi Si paga il 50% In più Chiaro Noi paghiamo L'energia elettrica Intorno al 20% In più Che nel resto Dell'Europa E non perché Non abbiamo Le centrali nucleari Grazie a Dio Anzi Grazie ai verdi Non abbiamo Le centrali nucleari In questo paese E la cosa Ancora più grave Che noi Nel 1992 Con una Delle azioni Lungimiranti Dei verdi Inserimmo Che il 7% Della bolletta Fosse destinata Alle energie rinnovabili Da allora Si sono mangiati In questo paese 45 miliardi Di euro E se li sono Mangiati Per Per pagare La merda Che avanza Perché così Si definisce Non ho altre forme Diverse Dalla produzione Petrolifera Sono contento Per i tifosi interisti Per la Sampdoria Per la Roma Tutte dirette dai petrolieri Ma non ne possiamo più Trovino altre forme Di azionariato popolare Quei soldi Abbiamo bisogno Che vengano direttamente Le energie rinnovabili Paolo si è subito Da romanista Si è arrabbiato Però voglio dire Spero che colgano La discussione Non c'è violenza Spero In quello che io voglio dire Ma è evidente Come le hanno destinati Ai famosi Termovalorizzatori Gli inceneritori Una delle truffe Su cui il nostro gruppo parlamentare Si è battuto davvero Da leoni In questa finanziaria E ancora siamo A metà del guado Ma insisteremo a batterci Ovvero In questo paese 45 miliardi di euro Sono a disposizione teorica Dal 92 Per le energie rinnovabili E così non è stato E noi Tutte quelle risorse finanziarie Le rivogliamo Alle energie rinnovabili Perché dietro a questo C'è lo sviluppo Economico ed ecologico Di questo paese C'è davvero Una possibilità di sviluppo Che ci faccia diventare leader A livello europeo e internazionale Perché dicevo Grazie a Dio E grazie ai Verdi Non abbiamo le centrali nucleari Ma anche l'industria del carbone È un'industria fortemente minoritaria In questo paese Quindi siamo Il paese occidentale Nelle condizioni davvero Di cogliere il grande rinascimento solare Noi siamo davvero Nelle condizioni di riscrivere La vera costituzione delle risorse Noi siamo davvero Un paese in condizione Da avere una libertà mentale Oltre che di lobby Di lobby economiche Che ci consente davvero Di scrivere oggi Il patto per il clima Da Verdi Con un mondo economico Che trova in questo patto Davvero un'interlocuzione reale Perché ne capisce Che noi oggi siamo in grado In condizioni Di guidare il paese Non più di essere Una forza politica Marginale Minoritaria Che in qualche misura Da buoni consigli Poi li applicano Quelli intelligenti e bravi Noi no Noi sappiamo Che dobbiamo Non solo dare i buoni consigli Fare buone leggi Vero Paolo Grazie Ma Diego Ma gestirle direttamente Perché tanto se no Il mondo dei mandarini Tutte le burocrazie Più che mandarini Ormai Io li chiamo tarocchi Perché ormai È un gioco continuo Ammazza continuamente Le buone proposte Le buone leggi Le buone idee Tutto quello Che noi conquistiamo Alle volte Nelle aule parlamentari Rimuore Nella politica reale Perché è fatta Poi di organizzazioni Veri Di innervatura Dentro la società Quello che sta avvenendo Con il conto energia Che è una straordinaria Rivoluzione E con il 55% Di sgravio Nella finanziaria È un fatto Di una gravità inaudita Perché quando si arriva A livello locale Allora si comincia Non solo La cosa straordinaria Del primo comune Deolicizzato D'Italia Volterra Che è l'esempio Mondiale Di imbecillità politica Perché questi qua Ci sono fatti mangiare Il sottosuolo Dalle saline di Volterra Dalla Solvè Ci sono fatti inquinare I fiumi Dalle industrie chimiche Proseguono Non hanno battuto ciglio Per cento anni E adesso Si sono Deolicizzati Un record Straordinario Ma c'è tanta gente Tanti cervelli Vacati Che impediscono L'applicazione del solare Che rendono Burocrati Con la messa in onda Di qualsiasi pannello La par condicio Almeno con le padelle Di Sky Non ce l'hanno data Ancora sui pannelli Solari Cioè c'è un ventre Molle del paese Che non reagisce Alle riforme Proprio perché lì Si scatena il controllo E allora è evidente Che noi la partita La dobbiamo vincere In tutto il paese La dobbiamo vincere Nel Parlamento Ma la dobbiamo vincere Anche oggi Io parlerei Per 15 giorni Ma cercherò di smettere Perché mi pare Che l'ho fatta Un po' lunga Dico l'ultima cosa Dicevo prima Che Leny ed Enel Indipendentemente Da quante lampadine A basso consumo Distribuiscono Da quanti limitatori Di flusso O da quanto Si rifaranno La virginità Ci hanno una questione Formidabile al fondo Non può esistere L'economia Delle rinnovabili Senza la rottura Dei monopoli Senza la rottura Del controllo Delle multinazionali Non può esistere Nessun futuro Ma per un'economia Che si voglia Dichiarare liberale Liberale Io la voglio chiamare Per un'economia libera Anzi la chiamerei Da questo punto di vista Con l'immagine Di un produttore Che qui è presente Straordinario Delle Marche Mi scusi Che non mi ricordo Il suo nome Ha parlato Dice io Sono un costruttore Di anarchia energetica Nel senso Che voglio La mia libertà Abbiamo bisogno Di riconquistare La democrazia economica Di cambiare Il modello Anche di distribuzione Dell'energia Abbiamo bisogno Davvero Di passare A una fase In cui Essere liberi E competitivi All'interno Di un sistema Che abbia regole Chiare E utilizzabili Per tutti Passa certamente Dal ripeto Dal frenare Dal bloccare Dal combattere Ogni forma Di monopolismo Ancorché mascherato Da come dire Azienda poste di Stato Di qualsiasi altra necessità E allora dobbiamo Costruire La finanziaria verde E la dobbiamo Costruire mantenendo Il lavoro di oggi Vivo Io vi chiedo Che ogni 15 20 giorni Ogni mese Gli interlocutori Di oggi Siano presenti Ad un tavolo Permanente Per proseguire Insieme a nostri Gruppi parlamentari L'elaborazione Delle misure Della finanziaria Insieme Sottosegretario Alla nostra delegazione Al governo Un confronto Permanente Che ci faccia arrivare Piano piano Le misure reali Che ci servono Che sia chiaro Il più delle volte Queste misure Non sono la solita Richiesta di soldi A Molte di queste misure Sono togliere Le golden share Che abbiamo dato All'economia dell'USA Non del riusa Noi vogliamo davvero Diventare i paladini Dell'economia Del riusa E del risparmio Oltre che i megawatt Nell'energia rinnovabile Vogliamo produrre Quello che diceva Pallante I megawatt Del risparmio energetico Noi vogliamo dimostrare Con la prossima finanziaria Che ogni abitazione Di questo paese Concludo Che ogni area industriale Di questo paese È in condizioni Finalmente Di non essere Consumatore netto Di energia Tra risparmio E produzione energetica Ma produttore Netto di energia Abbiamo bisogno E lo dimostreremo Di cominciare A costruire Un paese Che renda L'Italia In futuro Un paese A tutta energia Rinnovabile Questo per noi È l'impegno morale Che assumiamo È la stella colare Del nostro impegno politico È il fatto che scriviamo Con gli imprenditori Dicendogli molto chiaramente Perché qui è l'assunzione Di responsabilità politica Se voi crederete In questa prospettiva Se i lavoratori Crederanno In questa prospettiva Noi saremo davvero Lo strumento Per rendere Questa prospettiva Possibile Buon lavoro Noi abbiamo Una serie di interventi Che sono programmati Abbastanza corposi Che danno L'idea Della complessità Anche della discussione Che i Verdi Hanno voluto lanciare In questi due giorni Io quindi Darò la parola I vari interventi Pregandoli Di stare Nei 10-15 minuti In maniera Tassativa Proprio per Evitare Di andare oltre Diciamo Il calendario Che ci siamo dati Ovviamente Chiedo ai relatori Gli interventi Di fare Uno sforzo Che poi C'è utile Anche per i gruppi Di lavoro Del pomeriggio Cioè Quello di Data l'inquadratura Generale Con gli interventi Fatti da Grazia E da Fabio Rispetto alla relazione Che c'è tra il patto Per il clima E i conti Concreti Che poi Questo patto Per il clima Impone De fare Sul pianeta Riuscire a individuare Anche strumenti Di analisi E di proposizione Che ci consentono Di cominciare a definire Entro la giornata di oggi Una mappatura Delle proposte Per la finanziaria Ma aggiungo E anticipo Io anche Sul dpf Perché il primo Vero appuntamento Di carattere Normativo Programmatorio Anche nella discussione Parlamentare Ce l'abbiamo Con il dpf Io voglio cogliere Anche l'occasione Per dire Che Poi Mi auguro Che verrà ripreso Da alcuni Degli altri interventi Che sta arrivando A conclusione Il lavoro Della commissione Istituita presso Il ministero Dell'economia Per la contabilità Ambientale Noi riusciremo Nei tempi previsti Cioè entro il mese Di maggio A presentare Al ministro Padua Schioppa E poi Al consiglio Dei ministri La bozza Lo schema Di legge Delega Da poi Da mandare In Parlamento Per l'introduzione Nel nostro paese Della contabilità Ambientale Questo passaggio Passaggio Apparentemente Formale Burocratico Ma per chi Lo ha sperimentato Nelle tante Amministrazioni Locali Sa Quanto può Incidere Proprio Nella definizione Degli strumenti Che ci consentono Di fare i conti Al pianeta Cominciando Dal nostro Territorio È un passaggio Che ha un suo elemento Decisivo Perché Collocato Dentro Il ministero Dell'economia E delle finanze E non Sole Unicamente Dentro Al ministero Dell'ambiente Come una certa Pratica E letteratura Anche Di esperienze Locali Ha tentato Di confinare Il ragionamento Sull'introduzione Della contabilità E del bilancio Ambientale Solo Come lettura Dei finanziamenti Delle politiche Ambientali Noi sappiamo Che i conti Sul pianeta Si fanno Non solo Se vi sono Le risorse Per le politiche Positive Ambientali Che fanno Capo Al ministero Dell'ambiente Come agli Assessorati All'ambiente Ma si fanno Se noi siamo In grado Di leggere Tutti gli interventi Economico Finanziari Strutturali Se siamo In grado Di leggerli Con gli strumenti Dell'impatto Ambientale E quindi Prevederne I costi Ambientali I benefici Ambientali E sotto Quel punto di vista Riuscire a fare Una contabilizzazione Preventiva Io ricordo Sempre Che l'accordo Di Chioto Costerà Al nostro Paese Se non viene Applicato 12,5 miliardi Di euro Mentre L'applicazione Dell'accordo Di Chioto È possibile Farla Con un miliardo Di euro Basta Questo dato Semplice Matematico Diretto Per capire Come È indispensabile Che a partire Dal dpf Che sarà presentato Il 30 giugno Vi sia Un capitolo Su Chioto Che sia Trasversale Alle politiche Di programmazione Economico-finanziaria Del nostro Paese E che il capitolo Di Chioto Rappresenti Un primo passo Verso la definizione Di una legge Finanziaria Quindi Io credo Che noi dobbiamo Negli interventi Di questa mattina E poi do la parola Fare questo sforzo Di concretizzazione Oltre che di analisi Altrimenti Riusciamo Non diamo Una visione Io penso Ad esempio Mi viene naturale Anche per stare Nell'attualità Tutta la vicenda Del Lici Dove noi dobbiamo Assumere Anche in questa Io credo In questo workshop Anche che c'è Una posizione Perché nessuno Parla di ciò Che ha rappresentato Da parte Delle amministrazioni Locali E dei comuni Anche dei comuni Doviverdi Hanno responsabilità Di governo La politica Di espansione Immobiliare Che ha consumato Terreno E attraverso L'uso distorto Del Lici Ha determinato Politiche Di introito Per i comuni Per le amministrazioni Locali Oggi Battersi Per l'abolizione Del Lici Sulla prima casa Non è solo Mantenere Un impegno Di governo Non è solo Un intervento Di riduzione Della pressione Fiscale Su un bene primario Ma vi è Anche una lettura Ecologica Sul Lici Che noi dobbiamo Saper veicolare Dentro al dibattito E alla discussione Di questi giorni Non possiamo Pensare Che anche Temi Che sono i temi Che hanno La titolarità Di cittadinanza Prioritaria Nella comunicazione Mediatica Basta vedere Questa mattina Come aprono Tutti i giornali Non abbiano In sé Una valenza E una lettura Ecologica E quindi Non sono Neutrali Rispetto a quel Modello economico Di sviluppo Che dobbiamo Modificare Così come La riflessione Sulla Cip 6 Ci mette in guardia Ragione Ragione Fabio Quando ricordava Che il Cip 6 È stato Uno degli strumenti Su cui negli anni Novanta Il movimento ambientalista Pensava di utilizzare Parte delle risorse Economiche Per fare Energia pulita In questo paese L'applicazione Del Cip 6 È stata Quella truffa Che oggi Giustamente I verdi Stanno cercando Di togliere Di cancellare Dal nostro Ordinamento Finanziario Ma l'esperienza Del Cip 6 Ci mette In evidenza Una contraddizione A un rischio Che noi dobbiamo Aver presente E dobbiamo Saper valutare Vedete In questi Tempi In cui tutti Parlano Di cambiamenti I climatici Io credo Che non vi è In tutti Coloro Che parlano Dell'emergenza Climatica La consapevolezza Che l'emergenza Climatica Si affronta Se cambia Il modello Economico Di sviluppo Se il matrimonio Tra ecologia E economia È innanzitutto Il ribaltamento Di questa economia Fondata sul profitto Fondata sul liberismo Fondata Sulla guerra Fondata Sullo sfruttamento Dell'uomo Sull'uomo E dell'uomo Sulla natura E se noi Non diciamo Con chiarezza Questo Rischiamo Che una parte Dell'ecologismo A livello Nazionale E internazionale Qualche traccia Di è Nell'esperienza Degli ambientalisti Dei cosiddetti Ambientalisti Del partito Democratico Di vedere Ridotta La nostra Pretesa Capacità E volontà Di cambiamento In questo matrimonio Tra economia E ecologia Di vederla ridotta A una sorta Di eco business Noi dobbiamo Su questo essere Molto chiari Il Cifre 6 Ci dice con chiarezza Come si può Tramutare Dal punto di vista Di una Politica Dei monopoli E di una politica Fondata Sulla centralità Del profitto E del valore Capitale Fuori Dalle sue Condizioni Economico Ambientali Di rispetto Del pianeta Come si può Trasformare Una risorsa Un'opportunità In uno strumento Che aumenta Condizioni Di disuguaglianza E di sfruttamento E che aumenta Le condizioni Di impoverimento Complessivo Del paese C'è un rischio Nell'eco business Che noi dobbiamo Saper individuare Che dobbiamo Saper leggere Che dobbiamo Nel momento In cui costruiamo Un'alleanza Anche con settori Economici Anche con settori Imprenditoriali Alleanza strategica Dei produttori Positivi Del nostro paese Alleanza Che deve guardare Alla cambiamento Dell'economia Partendo da chi L'economia La fa davvero Dobbiamo Saper guardare A questi individuando E sapendo Qual è Il rischio Di una proposta Che oggi In nome Dei cambiamenti Climatici Ci può essere fatta E che trova Anche Nella Merkel Così come In Bush Negli Stati Uniti Dei importanti Riferimenti Di carattere teorico E di carattere pratico Su cui dobbiamo Avere le idee chiare Di lettura Allora io credo Che questa è la complessità Del ragionamento Che dobbiamo fare Su cui siamo chiamati I Verdi Mettono a disposizione E io mi auguro Che questo forum Rimanga un forum Permanente Come l'avevamo detto Quando abbiamo fatto Il convegno Sulla legge finanziaria Fare una Una Cernobbio verde Abbiamo fatto Una Genova verde Perché ci sembrava Più importante Ci sembrava Non solo Scegliere questo luogo Anche per la valenza Delle elezioni amministrative Ma perché non rincorriamo Quel modello Che a Cernobbio Simbolicamente Viene rappresentato Dal mondo imprenditoriale Ma abbiamo necessità Che questo forum Diventi permanente Nell'ambito Della definizione Del patto per il clima E abbiamo anche La necessità Che quel patto Di consultazione Che anche ieri È stato richiamato Negli interventi Di Pecoraro Scania E del ministro Mussi Tra i gruppi parlamentari Che non hanno aderito Al partito democratico Che sono I gruppi parlamentari Della sinistra Ecologisti Laici Abbia anche Un riferimento In una capacità Di consultazione E di patto Tra la delegazione Al governo Di queste forze politiche Noi dobbiamo Sulla vicenda Del tesoretto Sulla vicenda Del DPF Sulla preparazione Della prossima legge Finanziaria Partendo dalla centralità Del patto Per il clima Così come ieri L'abbiamo declinato Far sì che ci sia Un'azione omogenea Intorno a queste proposte Dei ministri E della delegazione Al governo Di quelle forze politiche Che in Parlamento Daranno vita Al patto di consultazione Questo è l'unico modo Per non subire L'egemonia Del partito moderato L'egemonia Dei democratici All'interno Nella discussione Sulla prossima legge Finanziaria Io credo che le cose Che usciranno Dai prossimi interventi Saranno parte integrante Di queste priorità Che saranno oggetto Di questo patto Concreto Non ideologico Di consultazione Tra le forze politiche Laiche Della sinistra Ecologiste Pacifiste Che non hanno aderito Al partito democratico Il sindacalista Dall'acciso Santini Mi sembra di ricordare Ha ringraziato Per la norma Che prevede Di rottamare Un'automobile E di non acquistarne Una nuova E avere Gratis L'abbonamento Per il servizio pubblico Ovviamente Limitare i danni Per il servizio pubblico Per il servizio pubblico Per il servizio pubblico E' un'automobile E' anche una risposta Che fanno questo blabà Meno male che ci siamo noi Che con i nostri ragionamenti Le nostre proposte Indichiamo al paese Qual è la strada da percorrere Perché se aspettiamo Gli ambientalisti Che ci sono dalle altre parti Noi saremmo fermi A vent'anni fa Questi non si ricordano Quello che noi abbiamo fatto In Parlamento Per indicare Alcune scelte importanti Riguardo Alla svolta ecologica In tema Per esempio Di energia Guardate I cambiamenti climatici Stanno producendo Una rivoluzione importante Forse non ci rendiamo ancora conto Dalla vastità Di questo processo di cambiamento Nell'economia Nella finanza Nei rapporti internazionali Forse non è ancora Senso comune La necessità Come dire Di cambiare stili di vita E tuttavia Cambiamenti sono in corso A livello Sovrastrutturale Io credo che sia Compito nostro Indirizzare questa rivoluzione Con finalità E obiettivi Di sostenibilità Di equità Di sobrietà Di solidarietà sociale Questo è il compito Del nostro soggetto politico Certo Noi siamo ancora Ritengo Inadeguati Nel senso che siamo ancora Troppo piccoli Ma c'è questa necessità La necessità Di costruire Un nuovo soggetto politico Più forte Aperto La società civile Che sappia Indirizzare Il cambiamento Che è in atto Nel paese A livello Planetario Qui Da qui La necessità Di costruire L'area ecologista Pacifista Dei diritti Della cultura Delle professioni Delle competenze Noi oggi Ci siamo aperti A un confronto Serrato Col mondo Dell'economia Col mondo Delle imprese E abbiamo fatto Un lavoro importante Ritengo però Anche ricordando Quello che dicevo Prima Che forse Non c'è ancora Senso comune Sulla necessità Di cambiare Gli stili di vita Che non basta Il confronto Con il sistema Delle imprese Occorre aprire Il confronto Anche Con Quelli che sono Dall'altra parte I lavoratori Le loro organizzazioni Perché La necessità Della svolta ecologica Deve Avvenire Nei comportamenti Concreti Della gente In carne e ossa Altrimenti È difficile Se si fa Se si indirizza Solo Sulla grande Infrastruttura Sulle sovrastrutture Sul confronto Politico Alto Cambiare Realmente Le cose E i comportamenti Dei soggetti In carne ed ossa Quindi il matrimonio Che noi Auspichiamo Tra ecologia Ed economia Deve creare Sostenibilità Deve creare Benessere E deve creare Qualità di vita Cioè la scommessa È far vedere Che essere ecologisti Conviene Conviene All'economia Conviene All'ambiente Ma conviene Anche alle tasche Dei cittadini Questa È la vera scommessa Che noi abbiamo Di fronte Io Ritengo Guardate Che Dovremmo fare Un lavoro Importante L'abbiamo già iniziato Per cambiare Il sistema energetico Un nuovo Modello Di mobilità Cambiare L'agricoltura Con una filiera Corta Intervenire In modo Molto preciso Sulla questione Dell'acqua Come bene Pubblico Occorre Un piano Di difesa Delle falde E dei fiumi Un uso Razionale E diversificato Della risorsa Il ripristino Della rete Che perde Acqua Da tutte le parti E un piano E piani regionali Per il risparmio Con chi possiamo Fare questo lavoro Soprattutto Con noi Con voi Lo possiamo fare Con quelli Che Con gli ambientalisti Che aderiscono Aderiranno Al partito Democratico Io credo Che noi Dovremmo incalzarli Dovremmo Tentare Di trovare Degli elementi Di interlocuzione Un confronto E tuttavia Guardate È difficile È molto difficile È difficile Perché quando si parla Di sistema industriale La prima cosa Che fanno È ricordarci Che ci vuole Il carbone È difficile Perché quando si parla Di trasporti L'unica cosa Che sanno Proporre È Il sistema Delle autostrade Io vengo Da una regione In Lombardia Dove tutti i giorni Noi dobbiamo Litigare Non solo Con formigoni Con quelli Che sono I nostri alleati Con quelli Che sono I nostri alleati Perché Per questo problema Il problema Dell'autostrade E guardate Noi però Non possiamo Come dire Rinchiuderci Noi dovremo Incalzarli Dovremo fare In modo Che Che si capisca Anche nella discussione Pubblica Se sono più Efficaci E giuste Le nostre proposte Sulla scelta Della sostenibilità O se sono più giuste E più efficaci Quello che propongono loro Perché Guardate Questa è la discussione È questa discussione Che deve portare Il nostro soggetto politico Ad ingrandirsi E poi Dovremmo Oprire Un confronto Vero Rigoroso Con il nuovo Cantiere Della sinistra Perché Guardate Le alleanze Noi siamo disposti A farle Con tutti Per ottenere I nostri Obiettivi I nostri risultati Però C'è un problema Di fondo Io ritengo Guardate Un conto È L'alleanza Per ottenere Dei risultati Un altro conto È un progetto Strategico E io ritengo Che Non si può Considerare Come molto Spesso Fanno Ancora Molti Dei rappresentanti Nella sinistra La questione Ecologica La questione Ambientale Come un punto In più Rispetto a un programma Tradizionale Di carattere Economico Sociale O fiscale A quello che si vuole Non è un punto In più Non è un punto In più E la devono Capire La devono Capire È la chiave Di lettura Per dare Risposti Ai problemi Del nostro Del nostro Tempo Di adesso E dei prossimi Anni Ripeto Non è un punto In più E poi c'è un'altra Questione Stamattina Un imprenditore Ci ha detto Che Ci vuole Lo Stato Deve fissare Le regole Fondamentalmente Queste regole Devono essere Rispettate Se si Accetta Questo tipo Di logica Io sono Uno di quelli Che l'accetta Se si accetta Questo tipo Di logica Bisogna Convenire Che Queste operazioni Avvengano Dentro Una economia Di mercato Non è Un'economia Centralizzata E statalizzata È un'economia Di mercato Io Ritengo Che questa sia Una discussione Importante Che anche i verdi Devono fare Che questa sia Un'economia Che questa sia Grazie a tutti.